ciao a tutti ragazzi sono senso che qui sono con un ospite che è salvo e mi sfiderà in portogallo spagna quest'oggi per la seconda secondo pronostico del mondiale programma domani sera alla ventura soci oggi mi diterà vi lascio giorno prima vediamo un po l'intro più bella sì mi piace anche a me il mio parere è la mod, cioè il gatto è gratuita, è qualcosa di incredibile poi infatti ci fa qualche bene l'inno, cioè la condizione della creatività anche la fase finale con l'inno con l'inno che tutte le volte mi fanno lì sti rimando lì a guardarle cioè anche te no io non... così vai bidone bidone scusate bidone mamma dio macetaio davvero no prima pepe ora lui mi fanno le formazioni no ci fanno ci fanno vabbè ci puoi anche ci stare i gol dopo no? no no già ha falciato uno qui ci fanno i gol vuoto spesso da dentro? uuu non c'è un gol per inizio non sono più troppo così grossa che cosa? anche la visione così grossa ah io lo so devo fare un po' di due sei peggio a chi mi viene uuu uuu nooo 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 che scivolata Sergio Ramos che fai? bernardo 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 aaah nooo uuuu bella azione bella azione mamma mia sono uscito un po' coltello è poco aperto nooo nooo ai 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 rosso diretto bravo nooo mi sono mogolo uuu ti sei distratto si appunto io stavo passando sulla faccia mi sono stata fatta stanno comunque sui polizzi sono scassi per cui non c'è però è stata buona che mi fai con guarda per cambiare questo c'è il suo ruolo sulla pors sul paro ronaldo nooo aaah nooo peggio che nel milan tutta la mani con le tercini eh la faccio sembra l'intervallo ma poi la legge fa difesa 3 DESTRO NOOOOO bella, bella parata, bella parata aaah oh no ronaldo ronaldo gioco meglio il tigio gioco meglio il tigio gioco meglio il 10 eh ma faccio dei tigio proprio non hanno non hanno senso no 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 basta di qua mi chiede testa vede ahah ecco eccolo eeeh 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 ha cominciato a insegnare sul calcio d'angolo così a casa eeeh eeeh devi buttare sul secondo palo ronaldo 2 2 2 2 2 per il giorno per il giorno per il giorno per il giorno c'è il gioco il gioco il gioco un gioco il gioco il gioco il cugino il sapore ronaldo cioè ronaldo lo odia a morte lo chiama penaldo e soffiare le rigole no 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 ci credo oh 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 qui si piglia è così forte 2 a 0 vabbè non è che ha preso gol stupidi no però decidire a 3 vabbè non lo faccio tanto vedo che è vivo uguale miracolo la fintina altro che i voluti bravo bravo no pallone totale bravo che tiro di merda è meglio meglio oh ecco il bagno martin martin no che davo gradato tanto a via bello jelson martin tra l'altro bravo 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 sono proprio solo solo? eh si per mai gli hai tolti sotto i nomi di giocatori? uuuu 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 nooo ma che cazzo faccio le azioni bellissime mi riesco a conto di utilizzarli per mai hai tolto i nomi di sotto dei giocatori? perchè sei sotto? sei dato che ho prima di sotto nooo mi ha fatto tutta la partita nooo allora peccato era bello nooo peccato ah ah la maniglia no non c'è il cappellino oh non sul pane no se dice si giallo per te schifo ehm ah 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 manco che andrea mi racchi ah 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 ma che cazzo ragazzi nooo che strano che ho fatto guai la cagà a fine qua 3 a 0 e 9 sono mangiato di tutto si fa che se lo salezza il cino era una cosa cosa? un cino era male ho visto che l'hai calcolata con il congoniometro si non era troppo mancolata però lo fai ripetare un altro ho comunque paoletto visto che andavano posta vabbè vabbè quattro città possesso contrasti 6 a 9 falli più falli vabbè c'è uno in più cioè sei falli cinque falli e due cartelli rossi l'ultimo è proprio regalato esatto lasciate il like iscrivetevi ragazzi e ci vediamo alla prossima allora e poi prima due volte non 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 non